Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, oggi siamo su Sweepall, un'applicazione italiana, mi raccomando, è fatta da ragazzi italiani. Io ho già provato a giocare. Ti va in palpa il cervello, purtroppo? Adesso posso finalmente chiedere la pensione di invalidità. La prima cosa che vi devo dire è che per adesso lo potete scaricare, link in descrizione, ma solo per Android. Noi scegliamo da computer tramite BlueStacks, un'applicazione, così riusciamo a registrare meglio, ma è solo per Android. Se andrà bene, mi hanno già detto che lo vorrebbero far uscire anche per iOS. Vi invito a lasciare una recensione a 5 stelle, soprattutto perché se vi mando il pattery pop al cervello dovete rispettare. Ovvio, ovvio, perché se il primo che arriva all'ultimo livello può permettersi di mettere 4 stelle. Adesso noi cercheremo di fare un po' di livelli, di far capire come inizia il gioco, che sembra molto semplice. Vi assicuro che più andate avanti, più vi incasinate. Scori per giocare, per lo resto, scopri. Lancia il cubo dentro l'X-ray dello stesso colore, esegui lo swipe prima che il cubo toppi le lisse. Allora, così, vedi questo è semplice, il giallo va nel giallo, il blu va nel blu e vedi c'è. Non andare proprio in alto, perché altrimenti non riesci. Non riesco a prenderli, cavolo, devo cliccare bene col mouse. Ok, perfetto. Ok, devi far fin di avere un dito, mica... Bene, adesso guarda, capite, che cazzata, molto semplice. Sì, aspetta, aspetta. Già questo livello è un po' più difficile, siamo andati un po' avanti. Come ho detto, ogni tanto vedete che cambiano le posizioni dei colori. Ogni cubo che viene messo cambia. Ecco, adesso il blu è sempre rimasto là, però ho visto quelli verticali e hanno cambiato il colore. Vediamo qui. Barancione, blu, ok, il verde è sotto, giallo è di là. Ah, buono, è riporto semplice. Il verde è di qua, perfetto. Qui adesso cominciano già a romperti le balle e cambiando. Ecco, che inizia a cambiare colore. Esatto, a cambiare colore e già comincia un po' il cervello a dirti, a farti capire che non sta continuando. Perfetto, quindi non solo cambia il colore adesso, adesso cambia anche, adesso scompare. Ah, verde, blu, giù, 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 giù. Il verde è di qua, giallo, ok, e già mi stavo dimenticando. Ok, aspetta, verde, verde, giallo e blu. Ok, verde, verde, giallo e anche più veloce, blu, blu, verde, giallo, 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 verde. Ok, perfetto. Già mi stai casinando tantissimo. Ok, hai finito il memory. Ah! Com'è finito il memory? No, no, non è finito. Eh, infatti non stai mi distraendo. Ho fatto una domanda io, eh. Allora, blu, verde, giallo, arancio, viola, ma quante volte cambia sto coso? Arancio di qua, verde, viola, verde, ok. Vai, bravo, bravo, bravo. Ok, ci siamo. Sei forte però, eh. Eh, no, non ho perso ancora una volta, eh. Minchia. Sto andando avanti senza perdere mai, sono potentissimo. Primo tentativo. Vediamo su quanto riuscite a fare voi. Io ho perso giallo, verde, non farò parlare. Non parlare, non parlare. Devo solo dire i colori adesso. Ok. Beh, hai sbagliato. Come ho sbagliato? Hai sbagliato. Come ho sbagliato? Hai sbagliato? Ah, ho sbagliato di nuovo? Allora, blu, viola, arancio, giallo di qua, il blu sopra, l'arancio sopra, il blu qua, il blu di là. Giallo sotto? Giallo, eh. Sotto, non dire. Eh, mi sono impallato. Viola su, giù. Sì, ho capito. Non sinistra, destra. Oh, mi sto, mi sto incazzando. Ma il verde è giallo? Devo stare con più calma. Devi stare con più calma. Devi tre. Il giallo è su, il blu è di qua, il giallo è di qua, il giallo è sotto, il blu è di là, l'arancio è sotto. Oh, devi stare calmo. Un po' di calma ce la faccio. Calma, tranquilla ce la fai. Vedi, eh, ecco. Blu, il blu è di qua, eh sì, sono troppo lento adesso però. Meno calma, un po' più di brio, ok, perfetto. Arancio di qua, giallo di qua, sì! Cos'è adesso? Allora, completo livello prima dello scadere del tempo. Pure a tempo adesso, perfetto. Quindi viola, giallo, verde. Quanti secondi mi danno? Pochi. Ma il verde era giusto di là. Sì. Era giusto di là il verde? Eh, ma questo non era giusto. No, non era giusto. Non era giusto. Verde, arancio, viola, giallo, verde! Mi sono incriminato, cazzo. Dai, vai su. Eh, vabbè. Viola. Allora, ho tirato a sinistra. Allora, ce la posso fare? No, ce l'hai tirato giusto. Dai, stanza che è giù. Un marina pieno di energia, effetto vitali. Ah, hai perso! Sono troppo tempo. Uh, rischi, rischi, eh? Sì, aspetta un attimo. Allora, verde, viola, arancio. Perché tu complicezza è normale. Oh, merda. Perché esce, se cambia colore nel momento in cui esce il pallino, no? Quindi devi un po' ragionarci sopra, ma siccome hai il tempo... Eh, non ragioni. Non puoi ragionare, sì. Eh, ecco, vedi? Basta che parli e via. Vedi, basta che parlo e... Oh, sono più veloce qua. Forse è meglio più veloce, però, cazzo. Guarda che roba, sono più bravo quando è più veloce. Guarda, guarda, guarda. Eh, perché ti concentri di più. Guarda che roba. Perché ti concentri di più. Dove stanno arrivando? Eh, sì, cazzo. Eh, di qua, di qua, di qua. Oh, ma sono un po' troppo... Oh, ma sono forte. Qualcuno di loro, che tranquillamente potrebbe arrivare a livello 55. Arancio, blu, eh. Di qua, di qua, arancio. Cazzo, totalmente. Sono rimasto fermo. Tervo da aspettare. La morte inevitabile. Blu. No, è blu sotto. Troppo casino. Eh, che ha sbagliato il primo. Il primo. Taylor si è arenato dal livello numero 26 al 27esimo tentativo. Ho bisogno di shapparmi gli occhi. Tentativo 77, cazzo, veramente. Tentativo 57, cazzo, è una cosa assurda. Ci provo. Dai, 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 dai. Ci provo? Ma non ci riesco. Dai, 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 no. Guarda, guarda, guarda. 58. No. Caricate l'app. Ditemi se sei riuscito a fare sto livello. Dai che ce la faccio. Blu. No. No, non è l'ultimo. Cazzo. Era l'ultimo? Tentativo 62. Tentativo 62. 62, 62 di qua, di qua, di qua, di su, giù, 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 di qua, di qua, si cazzo. Non in palco. No, esci presto, aspetta, aspetta. Adesso ce la faccio, dai che ce la faccio. No, no. E questa è ancora più veloce. Curva d'apprendimento, cresce sempre di più? L'apprendimento, giù. No. Guardi là. Questo era il secondo, era l'ultimo, viola, giallo, ma... È verde. Tentativo totale. Tentativo totale, giallo, sì. Cosa? Ah, adesso veloce più il memory. Aspetta, giallo, blu, verde, verde, era su? No. No, non era su. No, nera, su. Allora, il verde, qui ho sbagliato tutto. Allora, è, giallo, verde, azzurro, arancio. Giallo, arancio, verde. Dio, stai zitto. Eh. Guardi che la stai sbagliando. Allora, è giallo, verde, arancio, blu. Giallo, verde, arancio, blu. No, verde, è di qua. Allora, giallo, blu, verde, arancio. Giallo, blu, verde, arancio. Giallo, blu, verde, arancio. Giallo, arancio, arancio. Di qua, sì. Mamma mia. Ma che ti cazzo? No, sei un processore. Tenti, un trap. Aspetta, non mi ricordo più. Arancio, verde, arancio, giallo, blu. Allora, azzurro, azzurro, blu, blu. Allora, azzurro, azzurro, blu, blu. Ecco, vedi, hai visto che mi sono sbagliato? Attenzione che non ho cambiato adesso. Sì, bastardi. Hanno cambiato i colori. Ok, così. Ok, così. Così. E così. E così. E vabbè, quante me le danno? Basta! Fì che non sbaglio. Ok, fatto. Ah, ma che bello il rosso. Non mi ero mai accordo. Vedi che è difficile. Io non mi ero mai accordo che avessi quegli effetti tipo tuono dietro di sé. Eh, non anch'io. Cosa vuoi che me ne accorga? Io qua sto giocando, sto impazzesco. Mi senti di punto in mezzo e adesso ti cambiano i colori. Eh, mi sbaglio. Secco! Di qua, di qua, di qua. Sopra, sopra, sopra. Sotto. Sopra, sopra. Sopra, sopra. Sotto. Sono così immediati. Mmmmm. Oddio, oddio. Ah, benissimo. Bene, questo ti sicuro che è molto bene. Bene, ma non benissimo. Allora, così. Blu, rosso di qua, 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 blu, blu, rosso. Mamma mia. No, vorrei capire quali sono le vostre abilità, sopra. Esatto, provate voi. Oddio. Ah, attento. Beh, comunque. Qua che non è finito. Non interessa, basta, ragazzi. Ho il cervello in pasta asciuta. Siediti. Comunque, vi assicuro che il gioco è una figata, scaricatelo, andato, postate il livello che siete arrivati qua sotto su Instagram. Sì, fate lo screen e ce lo mandate per vedere quanto lui è scarso. Livello, io ho, tipo, non so, 35. Livello 26, tipo, l'ho fatto 52 volte, eh. 62 volte. Ciao ragazzi, mi raccomando, lasciate 5 stelle, scaricate l'app. Esatto. Vi ricordo che forse uscirà anche per iOS. Ciao a tutti. E al prossimo video.